Ciao a tutti, sono in questo nuovo video di FIFA 22 Ultimate Team e siamo come sempre su Foodbin per analizzare la nuova promo uscita gli scorsi giorni su Food perché ho aspettato a fare questo video? Innanzitutto per vedere l'uscita della mini-release come sempre di domenica ma ho voluto aspettare anche per vedere se l'IA Sports si decidesse a risollevare questo evento perché al contrario di ciò che dice il nome, ovvero Food Fantasy, dimostra che non hanno più fantasia sia per quanto riguarda i giocatori sia per quanto riguarda l'evento vero e proprio perché qua si tratta di giocatori che possono ricevere un upgrade, anzi fino a tre upgrade in base a determinate condizioni, tipo queste sono ovviamente a partire dal primo aprile quindi saranno condizioni che possono essere soddisfatte dalle cinque partite successive al primo aprile tipo gol oppure assist per i centrocampisti, attaccanti oppure clean sheet in cinque partite per i difensori quindi un gol o assist e un clean sheet oppure tre presenze in cinque partite se non sbaglio e poi cos'è che era? Una vittoria con presenza in cinque partite quindi queste carte possono riuscire ad arrivare ad avere un più tre di overall che non è niente male, soprattutto per alcuni quindi già qua diciamo che le condizioni non è che sono chissà quanto complicate cioè questi giocatori riusciranno secondo me facilmente quasi tutti ad avere il loro upgrade la maggior parte è anche triplo, poi vedremo che succederà andiamo a vederli uno per uno quindi vabbè lasciamo perdere Giuseppe Sa al portiere abbiamo un Closterman che è sempre interessante quando esce una sua carta perché è uno di quei difensori velocissimi e anche abbastanza ibridabili visto che il tedesco della Bundes, dell'Ipsia in particolare si può ibridare con facilità, ad esempio un Rudiger o comunque ce ne sono tanti di tedeschi dicevo, molto veloce anche come agilità e equilibrio siamo nella media diciamo dei difensori centrali niente di eccezionale ma neanche così bassa e questo qua per una Bundes sicuramente si può provare poi abbiamo Stones che è un difensore interessante della Premier League anche lui come ibridabilità siamo veramente al top inglese del Manchester City, cosa vuoi di più come valori di agilità e equilibrio siamo sempre lì tipo Closterman però ottimi valori di difesa e fisico oltre che di velocità anche se non è proprio equilibratissimo perché siamo a 81-89 come accelerazione e velocità scatto però vabbè dai, questo si può provare sono curioso di vederlo in game perché Stones penso che se ne siano viste poche di versioni speciali ecco c'era questa qui l'anno scorso e basta che non era neanche così forte quindi andrebbe visto un po' com'è il suo body type e via poi abbiamo Schimenez difensore della Liga costa 75.000 crediti è anche decente però sicuramente ci sono alternative migliori vedi Militao Adidas che è ancora più forte senza dubbio poi abbiamo Kamavinga e qua comincio a vedere i giocatori che avevano del potenziale ma che purtroppo non è stato sfruttato perché questo Kamavinga poteva essere un mostro se me lo facevano 4-4 però ormai un centrocampista completo me lo deve avere il 4-4 come minimo poi vabbè lui volendo lo usi mediano con ombra e il suo lo fa anche col 3 di debole però 4 di debole ci voleva per questo Kamavinga poi il prezzo è anche bello alto sicuramente per una Liga sia per il fatto che è completo sia per il fatto che è molto ibridabile va provato però ripeto mi ha deluso questo fatto qua del 4-4 di debole per il resto a parte il tiro che non è dei migliori però volendo la fase offensiva la può fare senza problemi poi ovvio se si trova davanti alla porta non è che la butta dentro spesso guardate la finalizzazione quanto vale 73 per il resto ottimi passaggi ottimo dribbling e anche come stazza difensiva e di fisico ci siamo oltre che di velocità poi abbiamo Van de Beek anche qua un altro tipo Kamavinga che poteva essere forte ma purtroppo deluso perché mi hanno fatto un centrocampista 3-3 a fine marzo ma non si può ma non è possibile una cosa del genere cioè questo qui sarebbe anche forte ma non me lo puoi ridurre a 3-3 cioè che ci faccio io con un 3-3 adesso è peccato perché è anche interessante ma così penso che in pochi lo andranno a provare cioè più che altro perché questo guardando le stazza è più offensivo che difensivo cioè è completo però se devi scegliere quale fase fargli guardando le stazza gli fai fare quella offensiva però rimane un 3-3 quindi dovrebbe fare il mediano ma non può perché c'ha le stazza più basse cioè c'ha 83 di difesa 83 di fisico che non sono chissà che cioè guardate le stazza anche interne non sono niente di eccezionale quindi anche il mediano secondo me non è che lo possa fare chissà quanto in modo efficace poi abbiamo Nani giocatore molto interessante della serie A c'è sempre una carta speciale di Nani ogni anno che fa impazzire questo ancora non l'ho incontrato però sto giro è ibridabile perché comunque è in serie A ok che il Venezia non è una squadra che ha tante carte forti però ad esempio guardate l'anno scorso dove stava quindi direi che è un'altra cosa piuttosto che in MLS poi questo tra l'altro è molto forte come COC secondo me è perfetto col 5-5 poi è sempre stato uno col body type abbastanza abbastanza buono da usare in game e quindi io non lo comprirei mai però se si se si trova sicuramente è ottimo da utilizzare poi abbiamo Jenson Martins e anche qua questo è un altro motivo per cui hanno finito la fantasia proprio cioè il solito Jenson Martins abbiamo una carta che è il solito baggatone soprattutto super sub secondo me però anche qui rimane un problema 3 di debole il 3 di debole ancora cioè io non lo accetto più cioè potevo accettarlo qualche mese fa ma adesso basta cioè adesso almeno il 4 ci deve essere un giocatore almeno 4-4 deve essere se parliamo ovviamente di giocatori offensivi per il resto questo qui c'è una carta clamorosa questo c'è da dirlo pure l'agilità ed equilibrio 99-99 è qualcosa di pazzesco però per il resto peccato per il 3 di debole però dall'altra dico meno male così magari meno gente lo utilizzerà e sarà meno odiato ecco poi abbiamo lui Marcus Rashford che meritava una carta speciale perché aveva ricevuto quelle dell'evento di Natale fuoco e ghiaccio però non era non era proprio il massimo perché c'era il problema del piede debole che adesso è stato risolto ora c'ha 4 infatti guardate quanto va a costare una carta del genere che adesso fa l'esterno e fa anche la punta sicuramente e volendo anche il COC e niente da dire se se questo qui è tornato a essere il Rashford dell'anno scorso allora vale non dico tutti questi crediti però almeno 2 milioni li può valere perché il Rashford dell'anno scorso cioè mi ricordo l'anno scorso guardate qua semplicemente questo qui faceva impazzire come punta i primi mesi dell'anno però aveva 5 di skill e 4 di debole quest'anno Rashford l'hanno tra virgolette ucciso con queste carte a partire dal base con 3 di piede debole e questo che era un evento che metteva a posto tra virgolette abilità e piede debole l'avevano fatto in due versioni che erano praticamente identiche entrambe con 5-3 quindi questa cosa non me la spiego al contrario tipo di un Gabriel Jesus che mi avevano fatto una carta 5-3 e l'altra 4-4 che in quel caso era più che accettabile poi abbiamo Gnacky Williams niente di che è il solito Gnacky Williams con un po' di piede debole in più perché di solito se non sbaglio ha due di debole nelle sue vecchie versioni in particolare la base vabbè la schippiamo perché non è niente di che secondo me poi passiamo a lui ovvero Sam Maximan il baggatone per eccellenza questo è un fenomeno ve lo dico però c'è anche un grosso problema ovvero questo qui 4 milioni non credo che ci sia una carta che valga 4 milioni a parte qualche Toti qualche Icon ma un Sam Maximan del genere è fortissimo senza dubbio 5-4 l'han fatto velocissimo può avere anche i 3 upgrade quindi questo qui se diventa 95 ok cambia però la velocità va a 99 già dopo il primo upgrade o massimo il secondo e prende anche un più 3 di tiro sì diventa un po' più finalizzatore ecco però non è che cambia chissà cosa secondo me anche il dribbling diventa al massimo aumenta un po' il passaggio ma alla fine la carta rimane quella questi upgrade alcune volte possono svoltare un giocatore cioè secondo me questo Nanny se diventa 94 diventa tutta un'altra cosa ma Sam Maximan rimane sempre più o meno così e che dire è una carta clamorosa come vi ho detto però come faccio a consigliare una carta da 4 milioni una carta del genere se devo consigliare una carta da 4 milioni come ho detto vado sulle Icon e sui Toti senza dubbio però questo qui tanta tanta roba peccato perché questo evento è un mix tra carte inutilizzabili carte tipo occasioni sprecate tipo Camavinga Van de Beek e poi quelli che costano in modo clamoroso clamorosamente alto ovvero Rashford e Sam Maximan ci sono i due top il resto è un po' me c'è Nania anche che in realtà è quello forte che costa il giusto e poi lui come ho detto c'ha il 3 di debole quindi già lo lascerei stare e quindi un po' l'evento delle occasioni sprecate ah poi dimenticavo passiamo alla mini release perché abbiamo questo Lucas ecco qua la cosa la situazione cambia perché abbiamo un altro Lucas che è simile in realtà a questa vecchia versione che io ho utilizzato per un bel po' di partite e mi è piaciuta un sacco quindi se questa carta dovesse scendere ancora un po' potrei valutare un po' l'acquisto visto che ho preso anche Daniel Alves giusto per provarlo e farebbe link con Lucas Moura quindi sarebbe perfetto che dire questo qua secondo me può fare il COC l'esterno e la punta non lo so in realtà perché è un po' gracile un po' piccolino basso quindi non so se la punta la farebbe in modo eccellente ecco però sicuramente l'esterno e il COC o anche volendo COD e COS li fa senza problemi questo devo dire che è davvero tanta roba quindi questo ve lo consiglio il prezzo forse un pochino eccessivo però già sui 700 io ci farei un pensierino perché è veramente una bella carta poi abbiamo Keita Balde 4.4 Super Sub incredibile della serie A magari da Super Sub un pensierino ce lo potrei fare anche giusto riprovarlo Odrio Zola carta inutile guardate che è inguardabile semplicemente poi abbiamo Roussillon anche qui veloce quanto vuoi però le stats sono basse per questo periodo una carta già superata e poi lui che è una carta da buttare poi passiamo alle SBC e abbiamo prima Antonio 4.3 è inutile andare avanti cioè anche qui le stats va bene ci possono stare però la nazionalità non è per niente ibridabile il campionato ok però la skipperei semplicemente poi passiamo a Caligiuri altra SBC da skippare assolutamente perché secondo me non è niente di che volendo uno lo usa centrocampo ma non lo so non mi convince ecco e poi abbiamo Sandro Tonali l'ultima SBC uscita e questo devo dire che ci sta in realtà soprattutto in ottica upgrade questo diventa forte ecco questo è uno di quelli che col più 3 diventerebbe un'altra cosa questo questo Tonali il più 3 lo stravolgerebbe secondo me diventerebbe un mostro clamoroso peccato per il 3 di skill però il suo 4 ridable ce l'ha e direi che può fare entrambe le fasi anche lui centrocampista completo diciamo che ecco forse costa un po' troppo secondo me 243 è un po' troppo però ci sta e poi ultima carta di questo evento è lui Christian Eriksen che è stato incredibilmente regalato per errore a un sacco di gente compreso me semplicemente per chi aveva la carta oro nel club cioè se tu avevi questa carta qui oro hai sicuramente ricevuto non questa ma questa qua del Brentford hai sicuramente ricevuto la sua versione 90 senza che sia uscita né in SBC né in pacchetti niente questa carta in teoria non è uscita nel gioco però per errore hanno trasformato tutte le sue versioni oro in questa qui quindi io ne avevo una nel club e una scartata qualche giorno prima e mi sono ritrovato con due carte di Eriksen 90 quindi ottimo così tra l'altro per chi fa compravendita questo qui sarebbe stato anche un bel guadagno perché pure le versioni scambiabili di Eriksen erano diventate 90 da 82 a 90 quindi uno quelle lì che si trovava le vendeva oppure si metteva a sniperare a 10.000 le versioni 90 perché all'inizio il cap era 10.000 e le vendeva adesso a 53.000 e diciamo che il profitto non è niente male e che dire di Eriksen io lo proverò assolutamente non solo per il fatto che si tratta di Eriksen ma anche perché ecco questo soprattutto con l'upgrade spero che li avrà spero che li avrà tutti e tre ma anche due già mi vanno bene io lo userò perché è un COC che secondo me merita di essere provato non è velocissimo sicuramente però già se ricevo un upgrade O2 diventa 87 di velocità più accettabile ma anche così io vi dico c'è un tiro a giro clamoroso l'ho provato nelle amichevoli per fare gli swap e anche il passaggio non è niente male poi vabbè è gracile ovviamente e lo sappiamo come Eriksen cioè io l'ho usato anche un paio di anni fa in questa versione vediamo se ce l'abbiamo ecco questa qui l'ho usato un sacco ed era mostruosa faceva dei girelli clamorosi è un peccato non aver avuto carte speciali l'anno scorso sono questa qui alla fine però Eriksen vabbè merita di essere utilizzato anche solo per questo quindi abbiamo visto questo nuovo evento speriamo che il secondo team sia migliore perché qua ha un po' deluso secondo me e niente allora ci vediamo nel prossimo video in cui andremo ad analizzare il team 2 del food fantasy ciao a tutti